Andavamo giù ai piloni, noi ragazzi di vita, con Pierpaolo Pasolini a farci la ruotata, passando dai grottoni la ferrovia la scarpata, attraverso i capannoni e gli orti di insalare. Oggi lì è Viale Marconi, in quel tempo coltivata, nella riva tra i barconi, passavamo la giornata parlando di milioni e di una vita fortunata, con le toppa e i pantaloni, nel pane e la frittata. Un mondo di illusioni, di gente marginata, poveri accattumi, quell'Italia disastrata, dai lutti e distruzioni, per la guerra sopportata, con le prime costruzioni che poi l'hanno trasformata. Grazie a tutti, grazie a tutti.